Che cos'è l'autostima? Ne parliamo brevemente. È un concetto per molti abbastanza abusato. Frank Furedi ne parla in un senso negativo, come se fosse un mito, una moda nel testo e il nuovo conformismo. Tuttavia l'autostima è un congegno mentale che verifica momento per momento la valutazione che noi abbiamo di noi stessi e il valore sociale della nostra persona. È una percezione interiore che risponde a due domande sostanzialmente, quanto valgo e chi sono per gli altri. Possiamo dopo 5 minuti di conversazione comprendere che posto occupiamo nella gerarchia sociale. Noi comprendiamo chi siamo dei segnali di approvazione o disapprovazione che riceviamo ogni momento. L'autostima nasce da 4 elementi. In primo luogo è la percezione della propria immagine fisica. Ci conosciamo non direttamente ma attraverso l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. Anche quando ci osserviamo attraverso una foto o le sequenze di una ripresa non ci cogliamo mai immediatamente ma sempre attraverso la mediazione di un sentimento che abbiamo di noi. Fra noi la nostra immagine può sempre dunque innescarsi un rapporto sereno conflittuale. In secondo luogo l'autostima è la capacità di gestire la propria sfera emotiva. Ne parla diffusamente Daniel Goleman nei suoi testi sull'intelligenza emotiva. Le persone che hanno capacità emozionali ben sviluppate hanno una maggiore probabilità di essere contenti ed efficaci nella vita. A questo proposito occorre rispettare determinate regole che riguardano appunto l'intelligenza emotiva. Conoscere le proprie emozioni ammettendo anche umilmente di averle dichiarandole magari anche di fronte ai nostri interlocutori. Imparare a controllarle e imparare a decifrare emozioni altrui e a trasmettere le emozioni giuste. In terzo luogo l'autostima è la capacità di gestire la dimensione relazionale. La stima di noi passa attraverso la capacità di risolvere i conflitti. Quasi sempre essi sono vissuti nell'ottica del potere e decisi in termini di vincita o di perdita. Si adottano due modelli, uno autoritario che indica io sì, tu no, il modello permissivo io no e tu sì. In genere ci siamo portati a seguire o l'uno o l'altro modello oppure oscillare continuamente tra i due, secondo appunto il contesto della situazione. In ambe i due casi mostriamo di noi un aspetto sovraufficiale non autentico che genera malessere e calo dell'autostima. Trascuriamo spesso l'utilizzo di un terzo modello, quello dialogico relazionale. Io sì, tu sì, quello assertivo, in cui nessuno vince o perde, ma le parti collaborano per trovare una soluzione accettabile per entrambi. In quarto luogo l'autostima è la percezione della propria significatività, dei propri valori. Possiamo dire che esiste un rapporto diretto tra valori incarnati, autostima e benessere interiore. Questo è quello che sosteneva anche uno psicanalista austriico di nome Viktor Frankl. Ad esempio, se vado bene a scuola riesco nelle relazioni e nel lavoro. Aumentano di conseguenza la percezione significativa della mia vita, l'autostima e il senso di benessere e l'intimità con esso. Quindi i valori incarnati sono strettamente collegati all'autostima e al benessere interiore. Una persona che avverte periodicamente, quasi sempre, l'insinificanza della sua esperienza reagisce punendosi con condotte autolesionistiche e punendo gli altri attraverso i comportamenti violenti eppure compensandosi con droghe e con disturbi alimentari e quelli legati alle dipendenze.